buongiorno tutti vi ringrazio per la cortesia attenzione oggi io volevo presentare nuovo motiva molto semplice e molto bello schema due amali e quattro giri questa compresa parte di rovescio dove si può usare si può fare maglione cardigan copertine anche capotti dipende solo da vostra lana è molto molto bello molto bello qui usiamo una maniera come si chiama legaccio legaccio perciò dalla parte diritti e maglie vanno tutti diritti dal lato di rovescio anche vanno tutti rovescio e adesso camminciamo con giro numero una prima io faccio vedere voi parte di rovescio questo motivo questa parte di rovescio guardate che bellezza questo lato diritto questa rovescio molto 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 bello e adesso cominciamo con giro numero uno giro numero uno tutti i mali e vanno diritti tutti i mali e vanno diritti schema due mali e quattro giri tutto giro facciamo mali diritti questo giro numero uno ci vediamo nel giro numero due giro numero due come io ho detto schema due mali e cominciamo un citato con queste dito indici noi teniamo stretta facciamo prima maglia diritto seconda maglia diritto e citato cavalchiamo sopra continuiamo un citato teniamo stretto agitato facciamo prima maglia seconda seconda e un citato e un citato spostiamo nella parte di maglia seconda continuiamo 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 un citato un citato due mali diritti un citato cavalchiamo sopra un citato una maglia seconda maglia cavalchiamo sopra come voi vedete vedete io non stringo perché io devo fare video un citato un diritto secondo diritto un citato cavalchiamo sopra ripetiamo un citato un citato un citato saltiamo sopra un citato un diritto secondo diritto e cavalchiamo un citato sopra di questi due mali e e finiamo il nostro giro un citato un citato due diritti e un citato cavalchiamo sopra abbiamo fatto giro numero due dal parte di rovescio voi ricordate cosa noi costruiamo nostra schema dalla parte di rovescio ci vediamo nel giro numero tre giro numero tre lato di diritto come voi guardate nostri mali e vanno tutti come coppia e adesso noi facciamo tutti i nostri mali e facciamo diritti tutti i nostri mali e facciamo diritti come voi vedete questa noi lavoriamo maglia di legaccio tutti i nostri mali e vanno diritti tutti i mali e vanno diritti e finiamo il nostro giri anche questo come voi vedete copie facciamo diritti abbiamo finito giro numero tre ci vediamo prossimo giro giro numero quattro come noi con voi abbiamo camminciato prima giro noi abbiamo fatto questi primi subito abbiamo fatto due un citato e una seconda però questa volta noi facciamo come scacchi dobbiamo spostare perciò questa prima io faccio diritto dopo faccio un citato due mali diritti un diritto secondo diritto e questo questo agitato io cavalco sopra ripetiamo un citato un diritto secondo diritto e agitato cavalchiamo sopra di prima e seconda guardate sempre i nostri mali rimangono nella copia un citato un diritto un citato un diritto un citato saltiamo e copriamo tutti questi due mali e così continuiamo un citato due diritti un citato cavalchiamo sopra e così continuiamo e finiamo il nostro giro un citato due diritti e agitato cavalchiamo sopra prima e seconda amalia è rimasta l'ultima singola facciamo diritto è normale perché qui abbiamo camminciata dalla una singola e finiamo abbiamo l'inizio una e finiamo con una diritto e adesso facciamo parte giro numero cinque io ho detto giro numero cinque però non ho cinque questo giro numero uno adesso noi facciamo tutti i mali e diritti quando torniamo lato di rovescio dopo noi cominciamo a fare un citato due insieme un citato due insieme e così abbiamo fatto tutti i nostri giri e adesso voi cominciate dalla parte dalla parte di diritto voi fate tutti i mali e diritti dalla parte di rovescio voi fate come io ho fatto voi vedere un giro voi fate un citato questi cavalcato due e così continuate dopo voi ancora fate tutti i mali e diritti tornate ancora nel lato di rovescio dopo voi fate un diritto e dopo cominciate ancora a fare copie e senza altro ricordate come voi avete cominciato dalla una e qui dovrebbe finire il nostro amativo come uno e tutto guardate che bello come voi fate più più stretto e vieni molto bel capotto e così anche dal male legato legato vengono belle cose secondo me un po' io ho fatto voi avete cominciato come io ho fatto io ho fatto voi vedere elastico decorativo e questo somiglia tantissimo tanto io pensavo come io per esempio non faccio spostare una maglia a continuo a lavorare un citato due insieme un citato due insieme e vieni m'attivo quale io ho fatto vedere elastico decorativo molto molto bello guardate guardate si può fare anche palantino copertine è molto molto bello è tutto io saluto voi tutti io auguro voi buon salute fortuna e buon lavoro guardate 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 guard